Amici di Midigo Channel, buonasera. Comincia questa sera un nuovo appuntamento con la nostra testata giornalistica. Faremo un po' il punto e il commento su quella che è stata questa fantastica serata di calcio per quanto riguarda i colori rossonieri. Alla vigilia di questa partita avevamo presentato Carpi Foggia come la possibile gara della svolta, un po' come è successo l'anno scorso contro il Melfi quando Mr. Stroppa rischiava la panchina. Questa sera i ragazzi hanno giocato la stessa gara intensa con lo stesso risultato della passata stagione, 3 a 1 anche stasera a Carpi. Una vittoria a tutto cuore, soprattutto nella ripresa, dopo che nel primo tempo la squadra aveva un attimino fatto rivedere i fantasmi delle precedenti trasferte, quelle di Pescara e Avellino, giusto per intenderci. Un primo tempo da dimenticare dove i ragazzi di Mr. Stroppa non sono mai arrivati al tiro, non hanno mai concluso verso la porta di Colombi, l'estremo difensore del Carpi. Un Carpi che è andato in vantaggio con l'unica occasione avuta con l'errore di Camporese, che sfortunatamente è scivolato proprio in occasione del vantaggio emiliano. Nella ripresa, a dir la verità, nessuno forse si aspettava questa nuova versione di questo Foggia targato Giovanni Stroppa. Un Giovanni Stroppa che ha dimostrato ancora una volta di saper leggere la partita in corso. I tre cambi effettuati durante l'incontro sono stati azzeccatissimi, hanno sicuramente dato, hanno cambiato volto a questa squadra, soprattutto quello di Floriano, ha il più sembrato un attimino eccessivo perché sostituiva un Fedato che nel marasma generale del primo tempo era stato anche tra i migliori in campo. Fedato in panchina, entra un Floriano che praticamente non vogliamo esagerare se diciamo che ha trasformato completamente la squadra, il volto di questa formazione. Un Foggia diverso che ha cominciato a macinare gioco, ha soprattutto impensierito il Carpi sin dalle prime battute di gioco ma soprattutto il Foggia ha fatto la partita nella ripresa. Il Carpi non è mai esistito, il Carpi ha avuto grossi problemi a riprendere in mano le redini dell'incontro. Davvero un grande Foggia che lascia ben sperare a questo punto del campionato. Cinque punti, alla vigilia nessuno avrebbe scommesso sulla vittoria del Foggia, una vittoria che va un attimino a rimpinguare una classifica deficitaria, soprattutto nel quel pareggio di sabato con il Palermo che aveva lasciato un po' la mano in bocca. Tre punti questa sera hanno rimesso tutte le cose a posto. Adesso crediamo davvero che il Foggia possa tornare a dire la sua in campionato e a volare, soprattutto sulle ali dell'entusiasmo. Che dire della prestazione della ripresa dei singoli, una difesa che non ha sbagliato nulla, qualche cosa da rivedere ancora a centrocampo, soprattutto in attacco la sorpresa Floriano a sinistra, Chirico a destra, ma soprattutto Beretta che è entrato in campo ha dimostrato davvero di saperci fare con i piedi. Tra l'altro proprio in occasione del gol ha dato dimostrazione di avere le carte in regola per essere il bomber oltre a mazzeo di questa formazione. Tre punti, dicevamo, importanti alla vigilia di un'altra trasferta delicata come quella di Brescia dove il Foggia si recherà sabato pomeriggio. A questo punto sognare non è utopia perché se questa squadra continuerà davvero a giocare, adesso c'è anche l'entusiasmo di questa vittoria, questo Foggia davvero potrà dare grandi soddisfazioni. Amici di Mitico Channel è stato un piacere questa sera esordire proprio in occasione della vittoria di Carpi, noi ci risentiamo nei prossimi giorni.